Musica Francesco Livari, neosindaco confermato nel comune di Camogli. Un risultato al 41% mi pare ed è un risultato forse anche inaspettato perché insomma il frazionamento poi nel centro-sinistra c'era stato inizialmente e insomma poteva anche essere diverso. Lei se lo aspettava? No, con questi risultati francamente non ce lo aspettavamo. Eravamo tranquilli nel senso che abbiamo lavorato bene, abbiamo messo in piedi un gruppo molto valido di persone capaci, competenti, per cui speravamo di riuscire a vincere ma non con questo distacco. È stata una sorpresa anche per noi. E gli altri risultati come li commenta dei suoi competitors? Ma non sta a me diciamo commentare i risultati degli altri ma credo che anche loro avessero aspettative superiori di quelli che poi sono scaturite dai risultati di domenica. Una considerazione politica se si può dire, nella provincia di Genova sono tre i comuni che diciamo erano guidati da un centro-sinistra e tutti e tre hanno portato a casa un risultato forse nel contesto nazionale inaspettato. Come considera questo dato da un punto di vista politico e di zona? Ma sicuramente i cittadini poi guardano le persone e a quello che si è fatto nei cinque anni precedenti per cui hanno dato un giudizio sul lavoro svolto e poi anche su come si è presentata la lista quindi vuol dire che lavorare con serietà alla fine poi paga. Quindi contano ancora molto le persone? Sì, soprattutto nei comuni piccoli contano ancora le persone, i rapporti tra le persone e gli amministratori. Ecco, dire che si ricomincia non va bene. Da dove si prosegue? Beh, un po' ricominciamo perché la squadra è stata rinnovata per cui ci sono degli ingressi nuovi però ripartiamo da quello che abbiamo lasciato in sospeso, lavori già appaltati, progetti avviati quindi abbiamo un percorso già tracciato, ovviamente dobbiamo inserire le cose nuove che abbiamo proposto. Ecco, nella composizione del nuovo Consiglio Comunale lei avrà i numeri evidentemente per portare a casa eventuali decisioni anche in via autonoma alla fine. È una maggioranza consolidata? Sì, ormai da molti anni con questa nuova composizione del Consiglio chi amministra ha i numeri per portare avanti il proprio programma, le proprie idee. Ovviamente è sempre importante confrontarsi con la minoranza perché si ci può arricchire e da qua ne scaturisce anche il bene del Paese. Ha subito dei rallentamenti la sua attività di sindaco durante la campagna elettorale o precedentemente all'inizio? Ma forse un po' alla fine ci siamo concentrati molto sulla campagna elettorale però anche con un occhio all'amministrazione. Per quanto riguarda invece la sua politica esterna al comune di Camogli, come si misurerà con i vicini se vogliamo dire così, cioè Recco e tutti gli altri comuni con i quali peraltro già collaborava prima? Sì, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con i comuni vicini, con i comuni del Golfo Paradiso, collaboriamo con il distretto socio-sanitario, quindi con le politiche sociali, politiche della famiglia, alla persona, mentre con i comuni del Golfo Tiguglio, Santa Margherita e Portofino in particolare abbiamo già rapporti per quanto riguarda la gestione del parco nazionale e dell'area marina protetta. Le offre un'occasione unica, ce l'ha un sassolino nella scarpa prima di ricominciare? Ma no, diciamo di no, noi guardiamo avanti e guardiamo al futuro di Camogli. Grazie a tutti.